Musica Buongiorno, benvenuti alla nostra linea diretta. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Abbiamo qui in studio con noi Andrea Levorato, presidente di Etra. Buongiorno, grazie per essere venuto a trovarci. Buongiorno a lei e ai telespettatori che ci seguono. Allora, stiamo vivendo, e questo lo sappiamo ormai tutti, un periodo molto complicato che è iniziato nel 2020 e sta proseguendo anche adesso. È un momento in cui tutte le certezze delle persone sono crollate, dobbiamo abituarci a una nuova normalità. Questa normalità però riguarda anche strutture come quella di Etra. Che periodo avete vissuto e che periodo state vivendo, presidente? Il 2020 è stato un momento difficile un po' per tutti, nel senso che abbiamo vissuto come tutti una situazione di complicazione anche nelle nostre attività. Però non ci siamo assolutamente scoraggiati anche perché noi, ripeto, vorrei ricordare, svolgiamo servizi essenziali di fondamentale importanza per la popolazione, per il territorio servito. Servizio idrico integrato e servizi ambientali integrati. Quindi bisogna assicurare questi servizi 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. E lo abbiamo fatto con grande impegno e grazie alla devozione e all'impegno di tutti i lavoratori e le lavoratrici di questa azienda, che sono una forte rappresentanza di un territorio laborioso. Non ci siamo scoraggiati, dicevo, perché il 2020, malgrado la pandemia, ha visto un incremento significativo degli investimenti sul territorio. Questo significa quindi dare una mano al territorio, creare quindi una iniezione di liquidità, aiutare anche l'indotto e tutte le imprese che lavorano con noi. Basti pensare che abbiamo raggiunto un picco di investimenti durante il 2020 significativo. Abbiamo raddoppiato gli investimenti nell'idrico e abbiamo incrementato anche gli investimenti nel settore ambientale, rinnovando la nostra flotta. Abbiamo dato lavoro a molte imprese del nostro territorio. Questo è un aiuto anche in un momento di difficoltà e di crisi come quello creato dalla pandemia. Allora, questo era un po' un cappello introduttivo di quello che avete vissuto a braccetto con i cittadini e di quello che stiamo vivendo in questo periodo. Adesso entriamo più nel vivo. Parliamo di servizio idrico integrato, di cui lei ha accennato prima. E come si colloca Etra fra gli enti gestori a questo punto? Beh, noi siamo una società primaria sicuramente nel panorama Veneto, ma anche nel panorama nazionale. In ambito Veneto noi svolgiamo un servizio importante sotto profilo del servizio idrico integrato. Siamo terzi per margine operativo lordo e siamo terzo gestore per la popolazione servita e quinto gestore per i ricavi. Questo cosa significa? Non che siamo indietro rispetto ad altre società, ma i ricavi sono determinati dalla bolletta, quindi dalla tariffa. Significa che se siamo quinti abbiamo delle bollette più basse rispetto agli altri gestori. E quindi riusciamo a fare investimenti, malgrado si chiedano tariffe ai nostri cittadini più basse rispetto ad altri operatori. Questo è dovuto al fatto che facciamo grandi economie di scala all'interno della nostra azienda. Sappiamo quindi calibrare bene le nostre azioni e le misuriamo sul territorio in sintonia con i sindaci e con i comuni soci. Perché ricordo che Etra non è una società privata, è una società pubblica partecipata da 70 comuni che sono rappresentati da 70 sindaci del nostro territorio. Con il quale abbiamo una collaborazione stretta e quotidianamente ci sentiamo, mi sento io con i sindaci, proprio per venire incontro alle richieste e alle esigenze dei territori serviti. Abbiamo parlato di investimenti, un tema davvero fondamentale perché è il motore che ci porta verso il futuro. Parliamo appunto di investimenti allora. Investimenti nel 2020, ricordavo poco fa, molto importanti. Sono stati raggiunti 109 milioni di euro di investimenti complessivi suddivisi tra idrico e ambiente. È stato anche l'anno in cui ci ha visto protagonisti di un'operazione straordinaria perché circa 56 milioni sono stati gli investimenti per il servizio idrico integrato. Cosa significa? Significa nuove condotte fognarie, nuove condotte acquedottistiche, significa rinnovare i nostri impianti di depurazione in modo che l'acqua reflua che viene reimmessa poi nell'ambiente sia reimmessa in condizioni di sicurezza senza elementi inquinanti. Ma ci ha visto impegnati nel 2020 anche in un'operazione straordinaria a braccetto con la regione Veneto perché abbiamo acquisito un importante progetto che è quello del SAVEC che consente di dare acqua buona al Polesine. Un territorio che non ha fonti di approfugionamento sotterraneo, quindi di falda, ma fonti di approfugionamento idrico di superficie, quindi nei fiumi Adige e Po. Quindi un'acqua di non eccellente qualità. Noi riusciamo invece con questa importante opera che è stata realizzata dalla regione Veneto e che abbiamo acquisito noi in gestione, siamo in grado di fornire acqua buona a un'area vasta del nostro territorio regionale. E' importante perché questo risponde ad una significativa azione di solidarietà verso quelle popolazioni che non sono servite d'acqua di eccellente qualità. E' stato un investimento e un impegno importante perché circa 53 milioni di euro è costata l'operazione complessiva. Allora, approfondiamo un po' questo tema del servizio idrico integrato, parliamo degli investimenti nella fattispecie. Sì, abbiamo fatto tanti investimenti nel 2020, altri ne faremo nel 2021, significa questo creare indotto, far lavorare le nostre aziende, far lavorare il territorio. In un momento di difficoltà come questo, iniettare 50, 60, 70 milioni di liquidità negli investimenti, in infrastrutture, è una mano importante al nostro territorio. I dati del servizio idrico integrato danno a Forecast 2020 un 36,4 milioni di investimento, appunto anno 2020. Sono aumentate anche le percentuali di investimento pro abitante con un 48,8% e il reinvestimento in tariffa il 51,5%. Significa che ogni euro di tariffa che viene pagata dall'utente, il 51,5%, quindi 51,5%, vengono reinvestiti in infrastrutture nel territorio. Quindi in ricchezza anche per il territorio stesso. Ecco, abbiamo parlato di territorio, però il territorio su cui fa riferimento Etra è molto vasto e abbiamo visto anche con l'esempio che ha fatto ora, assolutamente diversificato per esigenze, per necessità. Come fate voi a scegliere e andare a capire quali sono le esigenze del territorio? Beh, intanto noi abbiamo una mappatura completa del territorio che ricordo è vasto perché va da un territorio come quello montano dell'Altopiano alla Pedemontana, quindi la zona del Bassanese e Marosticense. Si scende poi via via verso l'Alta Padovana per abbracciare la zona dei Colli Euganei. È un territorio diversificato, è un territorio che è soggetto anche a situazioni idrogeologiche particolari. Infatti uno dei temi su cui ci concentriamo spesso è la riduzione delle perdite, soprattutto nell'Altopiano di Asiago dove il terreno può subire degli smottamenti, quindi anche le condotte possono subire dei disassamenti. Importante quindi è investire molto sulla riduzione delle perdite, quindi sul rinnovo delle tubature sia dell'idrico che anche delle fognature perché ovviamente non possiamo consentire che ci siano elementi inquinanti che vengono dispersi nell'ambiente. Quindi è uno sforzo quotidiano che tutti i nostri operatori del settore idrico, ma anche del settore ambientale, è un impegno costante che svolgono nel territorio servito da Etra. In sintonia, ripeto, con i nostri comuni che sono il nostro punto di riferimento e i sintaci. Quello che voi fate quotidianamente, abbiamo visto estremamente diversificato, però c'è una cosa che è il core, il cuore non della motivazione che vi muove, però del vostro stesso essere Etra, ovvero una solidità. È importante essere solidi. Parliamo di solidità appunto. Sì, è importante essere solidi perché poi quando molti appunto dei nostri investimenti vengono anche finanziati non solo dalla tariffa ma anche da prestiti bancari e è importante che il prestito non sia supportato da tassi di interesse particolarmente elevati. E' un po' quello che succede insomma anche in una famiglia. Se si hanno le possibilità di pagare il debito è chiaro che l'istituto di credito ti dà il finanziamento a tassi più bassi. E' quello che succede per Etra. Etra ha un'eccellente solidità economico-finanziaria ed è stato possibile tramite un'operazione importante che ho voluto portare a compimento nel 2017 ed è stata la patrimonializzazione dell'azienda. Oggi il patrimonio di Etra è intorno ai 190 milioni di Euro, 198 per la verità. È patrimonio di un territorio. È patrimonio dei singoli comuni, è patrimonio gestito dai sindaci. Questo patrimonio importante ha consentito di avere un indice di solidità finanziario dell'1,67%. Cosa significa? Tanto per avere un punto di riferimento. Diciamo che sono considerati indici eccellenti quando si sta al di sotto del 3%. Siamo all'1,67% quindi direi che siamo più che eccellenti. L'indice di solidità patrimoniale invece è dello 0,25%. Come punto di riferimento è 1%. Quindi al di sotto dell'1% siamo nell'eccellenza. Noi siamo un'eccellenza, un'eccellenza del territorio. Ci viene riconosciuto anche dagli istituti di credito che ci danno denaro per poter fare investimenti a tassi praticamente nulli. 0,5-0,6%. Abbiamo un rating finanziario importantissimo. Non posso dirlo perché è un dato riservato, ma direi che siamo all'apice degli indici di rating che vengono tradizionalmente definiti dalle società di rating. Allora abbiamo visto, c'è una solidità indiscussa, ci sono delle prospettive, c'è una vita che è cambiata dal 2020 al 2021 e chissà che cosa ci aspetta. Però immaginiamo che voi abbiate già una lista della spesa, una lista delle cose da fare, possiamo chiamarle le azioni prioritarie. Quali sono? Beh, innanzitutto speriamo anche arrivino i fondi del Recovery Fund e su questo siamo pronti. Siamo pronti a lanciare un investimento sul territorio cospicuo di circa 500 milioni di Euro nei prossimi 10 anni e lo stiamo facendo su due fronti. Sulla versione green che deve avere la nostra società e anche il nostro territorio, una vocazione che già da tempo abbiamo cominciato a tradurre in fatti pratici, e sulla digitalizzazione. Quindi con la possibilità di rinnovare tecnologicamente anche la nostra azienda e anche il nostro territorio. Partiamo dalla questione relativa all'economia green. Già da tempo noi riusciamo a ottenere energia pulita dai rifiuti. Dall'umido da cucina, attraverso dei digestori, riusciamo a ottenere biogas. Questo biogas alimenta dei motori per la produzione di energia elettrica che viene indirizzata verso i nostri depuratori, che sono impianti energivori, quindi consumano molta energia e consentono quindi di essere autosufficienti sulla produzione di energia elettrica per circa il 22-23% a seconda dell'annualità. Bisogna fare di più. Quello che otterremo nel corso del 2021 è ricavare carburante per autotrazione dal rifiuto domestico, in modo tale che qui i camioncini che vedremo girare per il territorio per la raccolta dei rifiuti saranno alimentati dagli stessi rifiuti che raccolgono. Questo è un concetto di economia circolare. L'altra sfida invece che stiamo affrontando è quella della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica. Su questo stiamo pensando alla realizzazione di sportelli anche in ciascun comune, dove l'utente potrà recarsi anziché avere gli sportelli, quelli dislocati, nei 3-4 punti del territorio. Così comodamente potrà andare nel comune di riferimento di residenza e lì troverà uno sportello virtuale dove un operatore gli parlerà da remoto e potrà fare qualsiasi operazione. Ma non solo, ma anche da casa potranno essere svolte queste operazioni di voltura piuttosto che di apertura di nuovi contratti. Attraverso una sfida digitale che stiamo affrontando nel corso del 2021. Sarà necessario anche, però, questo è un tema che è molto sentito dalla popolazione, proteggere le fonti idriche? Sì, le fonti idriche vanno protette anche perché, come dicevo all'inizio del mio intervento, questo territorio sta dando acqua buona a gran parte del comprensorio regionale. Quindi bisogna salvaguardare le nostre fonti idriche, le nostre falde. Lo dobbiamo fare con impianti di depurazione avanzati e in linea con la normativa non solo italiana, ma europea, che è particolarmente sfidante. In modo tale che tutte le acque Reiflui siano prive di elementi inquinanti. Bisogna farlo anche però attraverso dei comportamenti da parte degli utenti che devono in qualche modo essere vigili a che i propri comportamenti non interferiscano poi sull'ambiente in maniera negativa. Attraverso che cosa? Attraverso, ad esempio, noi ci occupiamo di servizi ambientali integrati attraverso una corretta differenziazione del rifiuto. Più si differenzia e più rispettiamo l'ambiente, ma anche più avremo riduzioni nella nostra bolletta ambientale. Perché? Perché se riusciamo a differenziare, riusciamo anche a trarre dalla differenziazione e dalla vendita quindi dei prodotti secondari, dei ricavi che andranno a calmierare le nostre tariffe. Abbiamo visto che Etra è pronta alle sfide, all'incognite soprattutto del futuro che ci aspetta, però dovranno essere pronti anche i cittadini a queste nuove sfide. Secondo lei come può prepararsi una famiglia, un cittadino, una persona a quello che ci aspetta un domani dal vostro punto di vista naturalmente? Beh, dobbiamo tutti lavorare nello stesso senso. Bisogna che tutti siamo impegnati nel credere nelle capacità di questo territorio. Noi come società pubblica ci crediamo e stiamo facendo dei passi da gigante. Stiamo dando veramente una mano a tutto l'indotto che c'è intorno a noi. Ogni famiglia deve essere responsabile e credere in quelle che saranno le future sfide. Le future sfide sono quelle che vanno verso un rispetto dell'ambiente, quindi economia green, ma anche attraverso le nuove tecnologie. Noi ce lo stiamo facendo e tutto il territorio deve crederci in questa prospettiva. Stiamo facendo un grande lavoro di collaborazione con i comuni, con i comuni soci, per cercare di integrare le nostre attività anche con le loro esigenze. I comuni sono l'interfaccia poi di una comunità, di un territorio. E questa società è in grado di dare degli strumenti a ciascun comune proprio per affrontare le sfide del futuro. In Etra bisogna credere e nel nostro territorio ha grandi capacità e dobbiamo credere anche nelle nostre capacità e nelle nostre possibilità di affrontare le sfide future. Proprio da questo augurio, siamo quasi alla fine di questa nostra linea diretta, una considerazione è sempre più importante, soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo, fare rete, da una parte fare comunità fra le persone, ma anche fare rete fra i soggetti che stanno attorno alle persone. Ci pare che Etra in questa direzione sia sempre un passo avanti. Sì, e lo possiamo fare, lo siamo, proprio grazie anche al lavoro che i nostri sindaci fanno quotidianamente assieme a noi. Guardate, i sindaci sono delle figure veramente incredibili, hanno sulle loro spalle delle grandi responsabilità, soprattutto in un momento così difficile come quello pandemico. Dobbiamo fare di tutto per aiutarli e noi lo stiamo facendo per quelle che sono le nostre possibilità, che sono, insomma, possibilità importanti. Allora, noi ringraziamo Andrea Levarato, presidente di Etra, per essere stato il nostro ospite qui a linea diretta. Lasciamo però i nostri telespettatori con un appello, un augurio, una promessa per l'immediato futuro. Sì, speriamo che la campagna vaccinale possa iniziare il prima possibile anche per la popolazione che non è appunto di fasce particolari, quindi per tutta la popolazione in modo da riuscire a uscire da questa situazione in tempi rapidissimi. Peraltro noi come società pubblica, svolgendo appunto dei servizi essenziali, abbiamo, diciamo così, sollecitato le autorità sanitarie perché i nostri operatori possano essere vaccinati per poter girare nel territorio in condizioni di sicurezza. La ringraziamo, presidente, per essere stato nostro ospite. Sicuramente torneremo a parlare di Etra perché è un argomento che sappiamo interessa molto i nostri telespettatori. Quindi grazie per essere stato con noi e diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.